Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai ci siamo! Impossibile non avere un bel po' di hype addosso perché questa è la settimana più importante di tutta la season numero 9! A fine settimana ovviamente lo sappiamo tutti ci sarà l'evento della stagione ma martedì con la patch 9.4 finalmente la prima patch dopo tre settimane di attesa arriveranno gli eventi arriveranno i file dell'evento e arriverà anche il file finale del robot quindi ragazzi tanta tanta roba nuova ma qualcosa già in realtà sappiamo nel video di oggi infatti ragazzi parleremo di alcuni avvistamenti mostruosi non so se avete seguito la mia pagina di instagram ma ho pubblicato un video che ora vi faccio vedere diverso molto più in alta definizione perché il mostro sta apparendo sempre più frequentemente dal mare intorno all'isola parleremo anche delle prime news sulla patch 9.4 quindi ci saranno degli aggiustamenti qualcosa già si sa e devo dire che stanno davvero lavorando tantissimo per garantirci sempre il gioco migliore e ti più trova la ma ve l'avevo già detto due giorni fa ragazzi nel video di sabato mattina ve lo dico subito vi faccio vedere perché non vi voglio lasciare ovviamente con il fiato sul colon ma prima però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiodarone grazie di cuore ragazzi per supportare di prepotenza il channel con le vostre scioppazzate mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la la devo fare la domandina la devo fare anche perché è una domanda molto curiosa ragazzi ve la faccio subito cosa ne pensi delle nuove skin quindi l'abbiamo visto ragazzi ieri mattina arrivano due skin che in realtà secondo me nascondono qualcosa di più rispetto alle skin stesse un bruco perché lui è un bruco e una farfalla quindi connesse tra di loro sicuramente per un sistema naturale tra virgolette ma il bruco e la farfalla c'è una cosa che poi diventa un'altra cosa insomma poi torna indietro potrebbero anche semplicemente essere dei riferimenti all'argomento che dicevamo qualche giorno fa riguardante la trama dell'evento quindi un possibile ritorno nella season 10 della mappa della season 1 ovviamente queste sono mie supposizioni la domanda chi preferite tra i due ditemelo qua sotto nei commenti e se li avete scioppazzati ma quindi ciancio le bande bando alle ciance andiamo subito bellissima nuova transazione andiamo subito subito ragazzi a eccolo qua a vederlo subito felice come una pasqua a capodanno il nostro signor tfew ragazzi mi pesca il modo per trovare dalla isola della lobby o anche dal bus il ama in game io ragazzi vi faccio vedere semplicemente uno spezzone perché davvero mega galattico guardatelo qua il tfews con tanto di cecchino che comincia a mirare e a spottare verso l'isola e a un certo punto non appena riesce a vedere la costa dell'isola lui spotta a caso prong trova il ama e anche dal bus qua non so se lo fa vedere nel bus che trova il ama non lo fa vedere ma guardate che storia ragazzi se trovate vorrei fermarmi su questo fotogramma che è meraviglioso cioè dallo spot di inizio trova le posizioni dei lama nella mappa provateci ragazzi cominciate a pingare a nastro di prepotenza se avete un cecchino nella lobby magari riuscite a spottare un lama chi lo sa solamente tfew riesce a fare queste cose ma andiamo avanti ragazzi ovviamente e parliamo anche di un argomento molto molto interessante tetane devi andare non è facile con le cose il nostro danny mosti ragazzi il donald ma start dalla situazione che mi cambia il suo status in starving che cosa vuol dire starving vuol dire affamato già aveva modificato il suo status relativo appunto a qualcosa di hungry affamato quindi si parla molto probabilmente del mostro che a quanto pare ha dei grossi problemi di alimentazione e intanto l'immagine bellissima di quello che stiamo vedendo in queste ore in game ragazzi la fase l'ultima fase l'iccata già i giorni precedenti del nostro robot come vedete ultimati anche i jetpack manca la testa ma la testa non è presente nei file di gioco ci sono due pack ancora criptati che non si conoscono uno è quasi certamente la testa e l'altro è la skin del bao bros quindi i fratelli che in realtà sono apparsi già da mo e non sono ancora stati presentati pubblicamente questa è un'immagine molto interessante del jetpack in game nel senso nei codici sorgenti ma quello che ci interessa noi intanto è anche quest'altra immagine ve l'avevo già presentata ragazzi we want you questa immagine è presente nella sottocartella dei file dei cartelloni pubblicitari quelli che sono apparsi ai grandi magazzini all'impianto a pressione in alcuni punti strategici a neo pinnacoli della mappa we want you ragazzi è molto interessante perché vi ricordate che la trama dell'evento sembra che coinvolgerà tutti i giocatori di fortnite beh questo cartellone non fa altro che confermare quella teoria probabilmente saremo davvero noi giocatori durante l'evento o come avevano detto in un ltm dedicata subito dopo l'evento a dover sconfiggere il mostro ragazzi quindi tanto tanto hype anche per questo nuovo evento che non vediamo allora davvero di vedere ma proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento e questo era quello che vi dicevo dei pack ma eccole qua le skin presenti in game e ancora non rilasciate non sono tutte ragazzi ne mancano due una tizia con i capelli verdini molto carini è un tizio invece tutto bardato che probabilmente arriveranno in questi giorni nelle skin criptate c'è proprio qua al centro il baobros i fratelli baobros la skin del palloncino è la più interessante ragazzi quella che tutti oramai conoscete punto di rottura ragazzi la skin punto di rottura è molto molto particolare perché nasconde nella schermata di caricamento quella insomma che tutti abbiamo sbloccato con le sfide della settimana numero 10 un mistero molto interessante voglio farvi vedere senza dirvi niente e poi vi chiedo ragazzi il mistero sembrerebbe nascosto in questa sezione delle immagini quindi la parte sinistra ve le faccio rivedere un attimo questa è l'immagine normale questa è la sezione che ci interessa voi ci vedete qualcosa guardatelo bene ragazzi perché sembrerebbe che molti utenti e non parlo di due o tre molti utenti su reddit ci vedano in questa immagine il mostro che è presente nel lago nel mare io non ci vedo un caccio nel senso io non sinceramente ragazzi non vedo quello che vedono loro anche perché andiamo a vedere un attimo prima di chiudere uno spezzone interessantissimo questi erano i bug fixati se avremo tempo poi li vediamo quello che volevo farvi vedere ragazzi è questo nuovo video come vi avevo anticipato durante un game eccolo la ragazzi riappare e guardate la particolarità di questo video proprio mentre va ad inabissarsi ragazzi si sta davvero presentando molto più frequentemente in queste ultime ore quindi date sempre un occhio al mare magari siete in game e lo vedete anche voi guardate adesso la telecamera va a zoomare sul castello di picco polare come vedete non si vede in realtà il mostro ci sono guarda 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 un missile ragazzi un missile come avete visto si è inabissato e ha preso un'accelerazione incredibile io non so se questo possa voler dire qualcosa però lascio a voi il gusto di esservi visti questa clip io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao